La grave carenza di medici di base che sta colpendo molte aree della Sardegna, le possibili soluzioni per superare le criticità, al centro dell'incontro dell'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi con le associazioni sindacali dei medici di medicina generale dell'isola. Ho pensato per esempio di agire inizialmente sui medici di medicina generale, sfruttando l'autonomia regionale, permettendo a loro di accedere alle scuole di specializzazione fuori borsa, cioè su posti aggiuntivi. Questa è un'idea che consentirebbe ai medici di medicina generale, chiaramente i più giovani, 32-35 anni, appena formati, di poter specializzarsi, cosa che nel continente ad oggi è preclusa. La proposta qual è? È quella di offrire a questi ragazzi, a questi giovani colleghi, la possibilità invece di specializzarsi in Sardegna, a patto che ci sia l'impegno di lavorare sul territorio per lo meno per 4-5 anni o comunque per tutta la durata del corso di specializzazione. Noi di FIMGI la riteniamo una proposta, lo ripeto, molto intelligente ma che occorre molta attenzione per studiarne le criticità. E sul rischio di commissariamento nazionale della sanità Sarda, appaventato pochi giorni fa dalla Presidente Alessandra Todde, l'assessore Bartolazzi si mostra fiducioso. Basta presentare i bilanci. Ieri c'è stata una riunione dove abbiamo messo di fronte face-to-face Ares, i responsabili della contabilità di Ares e i responsabili della contabilità delle aziende delle Asle. Questi dati apparentemente ci sono, vanno ancora, diciamo, tabulati. Non saremmo in grado, sicuramente per il 28 maggio, dove c'è stato il terzo richiamo del MEF, a portare dati definitivi, ma verosimilmente con una proroga di un paio di settimane saremmo in grado di chiudere almeno i bilanci del 2022.